Buongiorno, brutte notizie per i bevitori. Ascoltatemi attentamente. Allora, un nuovo report della Federazione Mondiale degli Studi sul Cuore, la World Heart Federation, ci dice con forza che non c'è una quantità minima di alcohol che si cura per il cuore. Sapevamo, e avevo già scritto in passato, che per il cancro tutti gli studi dimostrano che non c'è una quantità minima che si cura, cioè non bisogna bere alcohol, se non in casi eccezionali, insomma assolutamente con gli amici va bene, ma non regolarmente ogni giorno. E questo nuovo report appunto della World Heart Federation ci dice che la nozione che consumare delle piccole quantità di alcol faccia bene alla salute cardiovascolare non è supportato dai dati. Questo è un articolo molto carino, scritto da Megan Brooks per Madscape. Leggiamo alcune cose, ha fatto un'intervista ad alcuni degli autori di questo policy brief e vede praticamente che dice che il ritratto che l'alcol sia necessario per una vita sociale vibrante ha spostato l'attenzione dai danni del consumo di alcol e le dichiarazioni frequenti e ampiamente pubblicizzate che un consumo moderato di alcol come per esempio un bicchiere di vino rosso al giorno possa offrire una protezione contro le malattie cardiovascolari dice Monica Rora che è uno dei membri della commissione che ha scritto questo brief, questo documento e sono informazioni misinformed, sono informazioni scorrette, sono disinformazione al meglio e dice al peggio sono un tentativo della industria che produce vino e altri alcolici di confondere e ingannare il pubblico sui pericoli reali del consumo regolare di alcol. insomma in soldoni cosa voglio dirvi cosa vogliamo dirvi che come in tutto nella vita ci sono delle cose rischiose la vita è un rischio e le diverse cose che facciamo nella vita pongono dei rischi è importante essere informati su questi rischi e ogni persona in scienza e coscienza può fare delle decisioni e dire io voglio correre questo rischio perché per me questa cosa è fondamentale per il mio benessere psichico, fisico, qualsiasi cosa però dovete sapere che questa idea che bere un bicchiere di vino al giorno con gli amici contiene il resveratrolo e tutte queste altre cavolate che sono pubblicizzate insomma mi spesso vado fuori a cena e i miei amici o colleghi mi dicono ah guardate il succo di resveratrolo, il vino, un bicchiere di vino, questo è un concentrato di resveratrolo che mi allungherà la vita naturalmente queste sono falsità che sono state in maniera veramente intelligente strumentalizzate dai media e naturalmente dall'industria per convincere le persone a consumare più alcol ora ripeto voi dovete sapere che questo non è vero che anche delle piccole quantità di alcol consumate giornalmente e regolarmente hanno un effetto dannoso sul rischio sicuramente tumorale questo lo sapevamo chiaramente e adesso i dati ci dicono che anche per il rischio cardiovascolare in effetti i diversi studi ci dicono che anche piccole quantità vedete even small amounts di alcol aumentano il rischio di malattie cardiovascolari tra parentesi queste sono le coronaropatie gli ictus, lo scompenso cardiaco la patologia ipertensiva cardiaca alcune forme di cardiomiopatie la fibrillazione atriale che sapete è un fattore di rischio importantissimo per ictus cerebrale e gli aneurismi della orta quindi questo lo dovete sapere poi quindi smettete di credere che bere un po' vi protegge non è vero smettete di dire in giro agli amici, ai parenti che un bicchiere di vino al giorno protegge contro il rischio di fare patologie cardiovascolari e quindi assumetevi i vostri rischi quindi se per voi, come ho già detto, il consumo dell'alcol è un qualcosa a cui non volete rinunciare un bicchiere di vino al giorno o più bicchieri di vino al giorno purtroppo a cui non volete rinunciare dovete essere informati che correte un rischio un po' come quando una persona dice ma io fumo una sigaretta al giorno no, anche una sigaretta al giorno fa male oppure io mangio alcune cose ma in piccole quantità mangiamo un po' di tutto come si sente dire in televisione no, ci sono dei cibi che fanno bene e dei cibi che fanno meno bene e se noi consumiamo i cibi che fanno meno bene corriamo un rischio quindi questo è il messaggio che vi volevo lanciare che appunto è condiviso da questi colleghi che hanno scritto questo documento che sono appunto degli esperti di questi argomenti che appunto raccomandano delle azioni urgenti e decisive per contrastare questo aumento esponenziale delle morti e disabilità dal consumo di alcohol che appunto è diventato ormai pandemico una moda pandemica in tutto il mondo occidentale e non solo nel mondo occidentale e bisogna insomma implementare delle contromisure per contrastare questo scorretto pubblicizzazione di benefici dell'alcol che non esistono anzi all'incontrario e poi implementare delle altre misure appunto come obbligare i produttori di alcolici a dire che questi prodotti aumentano il rischio cardiovascolare, tumorale e probabilmente anche di neurodegenerazione fatemi finire con mostrarvi la tabella 1 del report di cui vi ho parlato ecco lo vedete questo è il documento della federazione mondiale sul cuore patologie cardiovascolari vedete il titolo di questo documento è l'impatto del consumo di alcol sulla salute cardiovascolare miti e misure ecco allora ve lo faccio vedere velocemente la tabella numero 1 con le raccomandazioni per alcuni ovvie ma è meglio riconfermarle allora vediamo per le persone che hanno patologie cardiovascolari o altre patologie croniche la raccomandazione è astinenza dall'alcol perché? perché l'alcol come vi ho già detto aumenta il rischio di patologia cardiaca ipertensiva, di cardiomiopatie varie di fibrillazione atriale, flutter atriale che sono fattori di rischio per ictus cerebrale una patologia devastante e infatti per ictus naturalmente per le donne in gravidanza o quelle che allattano la raccomandazione è astinenza perché il consumo di alcol durante la gravidanza causa la sindrome fetale alcolica che è una combinazione di anormalità fisiche del comportamento e dell'apprendimento nei neonati e naturalmente nelle mamme che stanno allattando non c'è assolutamente nessun livello di uso di alcol che è sicuro per i loro bambini l'alcol assolutamente lì è totalmente proibito non un paio di volte a settimana totalmente proibito durante la gravidanza e durante l'allattamento naturalmente la raccomandazione per i bambini e i giovani è di nuovo astinenza perché il consumo di alcol negli adolescenti è associato a alterazioni neurocognitive importanti e soprattutto a un danno dell'attenzione e alterazioni della visione della spazio quindi il rischio di incidenti e poi il consumo precoce di alcol aumenta il rischio di un sacco di alterazioni in cui una ridotta performance scolastica e altri problemi che poi si ripercuotono più in là nella vita il cervello si continua a sviluppare fino a circa 25 anni e quindi l'uso di alcol ha un effetto negativo sullo sviluppo del cervello infine l'ultima raccomandazione è che negli adulti che apparentemente non hanno nessuna condizione clinica chi non beve non deve iniziare a bere per chi invece è attualmente un bevitore il messaggio ripeto chiaro dico per l'ultima volta è che non esiste una dose minima di alcol che è sicura quindi ripeto il messaggio che un bicchiere di vino al giorno toglie il medico di giorno cioè ha un effetto protettivo è un mito sbagliato è una disinformazione spesso veicolata da interessi industriali e quindi se bevete consultatevi qui dicono col vostro dottore ma soprattutto riflettete sui rischi sui rischi perché appunto il consumo di alcol ha degli effetti mentali e fisici come ho detto aumenta il rischio di cancro soprattutto di cancro alla mammella sappiamo chiaramente questo ma anche di altri tumori e come vi ho detto in questo report aumenta anche il rischio di un insieme di patologie cardiovascolari e con questo vi saluto meditate soppesate i vostri rischi in base a informazioni scientifiche non a wishful thinking o messaggi scorretti che vengono veicolati da persone che hanno degli interessi economici e industriali nel farvi credere e pensare cose che non sono vere e non potenzialmente ma sicuramente dannose per la vostra salute e con questo vi ringrazio e vi saluto come sempre alla prossima con questo vi ringrazio è veramente insieme